oh guardate ci sta uno lassù l'avevo detto io a Pinuccio non fare il Feuerbach della circostanza l'alberello di Natale con le sue lucette colorate c'è il suo valore e calore ma ormai non si capisce più niente mignotte, transessuali, transavanguardie moralisti liberisti, aggressivi spiritualisti integralisti anticapitalisti si passa da Duor Calcutta al Santo Graal a Sordufodere la toilette è occupata buongiorno sono una giornalista pubblicista della famosa televisione di rottura per antonomasia gestita in modo alternativo da un grande poeta suburbano della gloriosa stagione del movimento sto conducendo un documentario inchiesta di Vera Fiction sull'amore diverso, sull'amore degradato volevo infatti chiederle, lei che abita in questa realtà che cosa ne pensa dell'amore degradato? beh bene, grazie, è stato esaustivo grazie! 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 Grazie a tutti.